Forza, Yang! Che stai facendo lì? Vieni! Cos'è accaduto a Yang? Non lo so. Si aspetta ieri sera, non si riavvia. Non era mai successo? No. Se non riusciremo ad aggiustarlo, non compreremo un altro fratello per mica. È un problema al nucleo centrale. Mi serve il suo permesso per aprire il nucleo. Abbiamo sempre saputo che alcuni robot sono forniti di spyware. Lei potrebbe non volerlo più in casa sua. Vorrei avere un vero ricordo. Che vuoi dire? Non vorresti essere umano? È una cosa così umana da chiedere. Posso essere sincero con te? Non essere sincero è possibile per te. Tu lo vuoi indietro? Certo che so. Anch'io. Mi serve solo un altro po' di tempo. Andiamo. Grazie a tutti. Grazie per la visione!